Buongiorno, abbiamo condiviso con Confindustria il fatto che in questa manovra presentata dal governo non c'è un euro, un solo euro per gli investimenti, credo che non sia mai successo, è una manovra che non prevede un investimento, non prevede nessuna prospettiva di crescita, quindi Meloni porta all'Italia, sarà la premier responsabile dell'incremento del debito pubblico, perché lo spieghiamo bene, se non cresce ovviamente il PIL, aumenta il debito pubblico e non potrà rispettare la curva del debito che hanno preannunciato. Questo governo va avanti per la sua strada in modo arrogante, in modo autoreferenziale, non accetta un dialogo neppure la dialettica parlamentare e attenzione, non l'ha accettata neppure prima la dialettica, ascoltando tutte le associazioni di categoria, le parti sociali vengono da noi, ci confrontiamo, discutiamo sulle visure, sulle prospettive che l'Italia e questo paese ha, ma la realtà è che ormai le imprese prevescono andare in altri paesi. Qualcuno oggi scrive che i sindacati stanno politicizzando lo sciopero, ma i sindacati fanno politica nel senso che difendono le ragioni dei lavoratori, che questo governo quando erano all'opposizione, ci ricordiamo che loro volevano scioperare su tutto, hanno rivendicato il diritto allo sciopero, hanno rivendicato il diritto di andare in piazza, Giorgia Meloni dice che lei ha fatto sempre, ama il conflitto sulle piazze, la precettazione da parte di questo governo è una misura assolutamente in contrasto con quello che hanno sempre detto, ma non mi meraviglio, perché loro su tutto si stanno rimangiando quello che hanno detto. La Corte Suprema del Regno Unito ha bocciato il piano Sunac sui migranti, che cosa ne pensa? Che se l'ha bocciato evidentemente perché non garantisce la dignità, la tutela dei diritti fondamentali delle persone, ed è ovvio che qualsiasi iniziativa non può che muovere e dar rispetto, io l'ho sempre detto, dei diritti fondamentali delle persone e anche dei migranti. Se poi vogliamo fare un parallelo, perché immagino che qui molti stanno facendo il parallelo con lo spot albanese della Meloni, guardi, io non entro nel merito se sia in contrasto con le norme europee o meno, questo lo deciderà la Commissione. Io dico semplicemente che, ancora prima, è uno spot assolutamente inutile, spendere quei soldi, tutti quei milioni, 80 milioni di compensazione all'Albania, 100 milioni di fondo di garanzia, tutte le spese vie per i trasporti, per trasportare i migranti. Ma che senso ha per parcheggiarli obese, due mesi in terra albanese e poi riportarli in Italia? Ma questa è una follia!